60 milioni di euro di danni per l'economia locale, questo secondo l'Associazione dei consumatori Codacons di Salerno il danno subito da commercianti, residenti ma anche pendolari e semplici turisti a causa dei ripetuti blocchi del traffico veicolare legato alle frane che hanno interessato la costina amalfitana. Una situazione particolarmente critica per denunciare la quale ha preso parte alla conferenza stampa a Salerno anche il presidente nazionale Carlo Rienzi annunciando un'azione risarcitoria collettiva già partita sul proprio sito. Per l'Associazione inoltre il destino della costina amalfitana sarebbe addirittura segnato una previsione forse apocalittica secondo la quale la Divina sarebbe destinata per il Codacons a scomparire entro dieci anni. Per spiegare questa tesi il Codacons ha riunito ingegneri e geologi per richiamare le istituzioni e le proprie responsabilità, obiettivo puntato in particolare sulla capacità di spesa delle regioni in materia di dissesto idrogeologico con la Corte dei Conti che poche settimane fa ha pubblicato un apposito dossier. Per il Codacons i mancati finanziamenti avrebbero bloccato una serie di opere che avrebbero potuto evitare o limitare i danni poi subiti dai comuni. Dubbi anche per l'assegnazione dei punteggi, per i fondi di rotazione triennali, per la progettazione degli enti locali. Io sono meravigliato che ancora non è sparita la costiera marfidana in realtà, quindi siamo fortunati se riusciamo ancora a fare qualche cosa. Come si fa però a salvare la costiera marfidana se è ancora possibile? Beh intanto ci vuole un assetto idrogeologico con impegno a spendere i soldi dove serve davvero e quindi impegnarsi su questo e poi bisogna fare uno studio complessivo di tutta la regione su questo problema con esperti che siano in grado di dire dove bisogna intervenire prima e cosa fare per poter evitare questa distruzione. Siamo andati a controllare, insomma a studiare il bando e a controllare i punteggi, abbiamo richiesto i singoli punteggi di attribuzione alle richieste dei vari comuni e abbiamo riscontrato delle anomalie. In pratica all'articolo 11, al criterio 5, notiamo come si vede anche nel manifesto dietro di me che i comuni di Praiano e di Amalfi ricevono al criterio 5 sempre 10 punti, mentre Tramonti e Cetara sempre 0 punti. Questo ci è sembrato strano pure perché al criterio 5 si parla di popolazione, del numero di abitanti e quindi come comuni, quindi non si capisce perché a uno 10 e all'altro 0 punti. Questo poi nel bando può fare la differenza. Come abbiamo assistito in questi giorni, proprio Cetara e Tramonti sono stati comuni che hanno avuto dei dissesti idrogeologici importanti con vari disagi per gli abitanti. Grazie.